In occasione della celebrazione della Festa della Donna, Forbes ha presentato la nuova lista delle donne più facoltose al mondo. Secondo Forbes ci sono 16 donne in Italia con un patrimonio superiore a un miliardo di euro. Per la prima volta, l'Italia si è posizionata al quarto posto nella classifica delle nazioni con il maggior numero di donne miliardarie. Gli Stati Uniti sono al primo posto con 92 donne miliardarie, seguiti dalla Cina con 46 e dalla Germania con 32. La signora Massimiliana Landini Aleotti, proprietaria della società farmaceutica Menarini, è in cima alla lista delle donne miliardarie italiane con un patrimonio netto di 6,7 miliardi, occupando anche la 56esima posizione nella lista globale. Al secondo posto c'è Miuccia Prada, con un patrimonio netto di 5,2 miliardi, seguita da Alessandra Garavoglia, consigliera di amministrazione del gruppo Campari, con un patrimonio di 3,44 miliardi. La quarta e la quinta posizione sono occupate rispettivamente da Giuliana Benetton e Isabella Seragnoli, entrambe con un patrimonio di oltre 3 miliardi. La lista prosegue con Susan Carroll-Oland, presidente di Amplifon, e Marina Prada. Giuliana Caprotti e Marina Caprotti sono entrambe all'undicesimo posto con un patrimonio di 1,49 miliardi. La lista comprende anche Barbara Benetton, Simona Giorgetta, Veronica Squinzi e Stefania Triva. Voi cosa ne pensate? Auguri a tutte le donne! Iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanella per non perdere tutti gli altri video.